Giovanni, dopo il 98 minuto, pensi che abbiamo fatto abbastanza per vincere la partita? Penso che abbiamo fatto abbastanza per vincere la partita. Penso che abbiamo fatto un buon spielo. Oh, stai parlando tedesco. Scusami. Penso che abbiamo fatto un buon spielo. Un buon spielo. Un buon spielo. Un buon spielo. Un buon spielo è sufficiente. Un buon spielo. Un buon spielo. Penso che l'Austria non devono perdere. Ma abbiamo una buona possibilità di vincere. Perché il posto, il Shalong, il Red Bull, i Corners... Penso che in questo momento la partita è finita. Dopo i ultimi 20 minuti... Allata nella differenza... I Ну c'estete parecki delION. L SV. Quando abbiamo trovato poi sull'ass orders. È quando abbiamo fatto une volta sul nuovo giro. адцатина. E eravamo stanti. Ha fatto una motorità di ruotazione che ci sono insidere. Torn. Quindi Fai cambiato anche per aiutare il giro noi. Quindi, Paul Green... e anche Shane Long era rinno, 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 era stato tredo. Shane Long ha detto che non era stanco. Ma ha accorso molto. Rinno a lotto. In questo momento, abbiamo bisogno di la midfield, perché per 20 minuti, 20 minuti, abbiamo avuto la midfield. E poi abbiamo... Perché non avevo pensato di mettere Wes Hulahan, che poteva tenere più palla? Ma... All'option... Now, after 90 minuti, possiamo dire ciò che vogliamo. Holalan o Paul Green o no. In questo momento abbiamo bisogno di 20 minuti. Abbiamo avuto difficoltà di difendere in questo momento. In questo momento abbiamo detto che abbiamo bisogno di vincere contro l'Austria. Robby Keane, il capitano, ha detto che abbiamo bisogno di vincere contro l'Austria. Quindi cosa ha fatto questo risultato per la qualificazione di qualificazione? Questo risultato che cosa implica per la qualificazione? No, certo. Siamo in una stessa situazione, perché è anche possibile fare un giro. Dopo il giro contro l'Austria, questo non è facile. Credo che il passaggio è troppo lungo. Ci sono anche un giro molto forte, perché la Svizzera... Abbiamo bisogno di vincere, perché il momento... il giro è un livello. Finalmente Giovanni, vuoi continuare nel lavoro? Credo che dovresti arrivare in questo risultato? Per questo risultato? Perché? Perché? Ricordate che siamo un'islazione o credo che siamo germani o inglesi? Siamo un'islazione. Siamo in una buona posizione. Siamo in questo momento, con un punto, il giro contro la Svizzera. C'è differenza della tavola? Perché non? Giovanni, grazie molto. Ciao!